Ciao ragazze, allora oggi per questo make up tutorial ho deciso di utilizzare tutti i prodotti low cost quindi partiamo subito con l'applicare il primer dell'Essence, l'I Love Stage lo applico su tutta la palpebra così poi ho deciso di utilizzare questa palettina della MUA che è la Dusk Tilt Down allora, quindi inizio con l'applicare questo colore un po' vegiolino, un shimmer su tutto l'occhio per evitare che poi con l'applicare gli altri ombretti si formino delle macchie e così lo applico su tutto l'occhio scusate la faccia, mio dio ragazze, era tardissimo i capelli, un mostro comunque, continuiamo poi ho utilizzato questa palettina che è praticamente un kit per sopracciglie che ho comprato da H&M è molto carino, lo trovate in offerta a 2,50€ se non sbaglio comunque ho plegato questo marroncino colore matte sulla piega dell'occhio e sfumo poi prendendo questo colore che dalla telecamera che spalza tantissimo il colore c'è più che altro le luci sembra chiarissimo ma invece è un grigio scuro, sempre shimmer vado ad applicarlo all'angolo esterno dell'occhio formando una piccola P così la coloro anche un po' dentro poi riprendo il pennello da sfumatura precedentemente usato e lo sporco di nuovo con l'altro colore marroncino che ho usato prima, quello del kit per le sopracciglia e sfumo così aggiungiamo anche i capelli nel frattempo ok poi prendo di nuovo questo colore ah no questa è una bugia prendo quel colore bianco matte e lo metto sotto l'arcata sopraccigliare per creare quel punto luce e prendo lo stesso colore che ho utilizzato prima quel colore bianco scuro e lo metto anche sotto l'occhio così ok poi prendo questo colore che è dorato ragazzi mi dispiace ma non si vede niente la prossima volta cercherò di utilizzare delle luci migliori e lo metto così nell'angolo interno sempre per creare un punto luce poi ragazzi prendo questo eyeliner liquido di Lacoste che io adoro e secondo me è il migliore e lo applico su tutto l'occhio e lo applico su tutto l'occhio inizio formando una lineetta al di fuori dell'occhio una linguetta e poi continuo e lo porto dentro poi ragazzi io utilizzo questa matita nera sempre della Costa la 4Color Casual Pencil e mi dura tutta la giornata quasi meravigliosa poi eccezione fatta per questo meca tutorial perchè io non le uso quasi mai raramente però per una seratina questo trucco ci stanno benissimo applico queste ciglia finte sempre della Mua e ho usato anche la colla finta quella della Essence la colla per le ciglia finte ragazzi non la colla finta comunque mi avete capito odio parlare così ok con la pinzetta delle sbracciglia l'applico la facciamo asciugare poi ragazze uso il mascara l'Ilo Extreme colorosa l'applico sotto e l'applico sopra non su tutte le ciglia mi raccomando ma solo sotto poi vado a fare il contouring e uso questa terra cotta una baked powder la numero 9 sempre della Costa l'applico sotto un zigomo ai latini della fronte delle tempie così io adoro il contouring perfetto faccia un po' più magra poi prendo questo pennello che sarebbe da sfumatura ma un po' grandicello e lo uso per fare il contouring al naso perché ragazzi il mio naso è un po' a patatina se vogliamo chiamarlo a patatina così ai lati tranne la punta ben sfumato mi raccomando poi ho usato questo blush sempre la Essence Silky Touch Blush che è il numero 10 adorable poi ragazzi con questo pennellone a ventaglio applico l'illuminante della Revolution ed è il Peach Light molto bellino ragazzi costa pochissimo poi per le labbra vado ad applicare questo lip liner della Essence numero 12 Wish Me A Rose ci voleva un po' di colore andrebbe benissimo anche un bel colore nude ma in questo caso a me piaceva questo colore un po' fucsia applico questo rossetto matte della Moua che ragazzi non so di subito il numero ma si chiama Beauty Pink metto un po' di lucido sul centro così per fare l'effetto labbra un po' più carnose aggiusto i capelli vabbè sarebbe stato inutile comunque perché il risultato non cambia ragazzi questo è il trucco mi dispiace se non si vede bene la prossima volta farò il possibile per prendere delle luci migliori grazie a tutti ciao ragazzi